Rimini ha un bacino di pubblico per quanto riguarda la mobilità molto ampio e soprattutto legato al turismo quindi l'obiettivo è quello di rendere accessibile il servizio sia ai residenti che comunque potrebbero avere difficoltà a conoscere tutti i vari aspetti del servizio quindi quale può essere l'offerta sia all'occasionale che appunto ha poco tempo per potersi orientare quindi questa applicazione è sicuramente vincenti su entrambi i target di riferimento si avvicina sia come linguaggio che proprio come facilità d'uso e aiuta anche appunto durante lo spostamento durante l'utilizzo del servizio con informazioni passo passo quindi è proprio semplice anche da utilizzare alla portata di tutti Grazie